Buongiorno ragazzi, buongiorno dottor, vi devo fare i complimenti eh Buongiorno ragazzi, vorrei sapere una battuta, mi sapete quale differenza tra il negro e il pneumatico, no, al pneumatico quando le macchie le catene non si mette a cattare Se ogni fissino passi sarebbe semplice se dimenticassi che ora ti scassi con me, è semplice che così con me, ho conto di me